Che cosa è propedeutico a questo corso di Fisica Generale I? Oggi è la prima lezione e io devo, devo, sono costretto, a dare per scontato che voi abbiate delle basi di matematica. E adesso vi dico che cosa io suppongo a priori che voi già sappiate. Allora, innanzitutto, geometria analitica e trigonometria sono cose che, se avete fatto un liceo scientifico decente, dovete sapere, se io vi dico un'equazione di una parabola, voi capite che è una parabola, sapete individuare la concavità e cose di questo tipo. Geometria analitica, equazione di una retta e via dicendo. E trigonometria, non voglio che succeda, come invece succede sempre, che qualcuno sbaglia il compito di Fisica perché fa confusione seno-coseno. Questo non è ammissibile. Poi, ovviamente, concetto di limite, ma soprattutto derivate e integrali semplici. Quello è il pane quotidiano, non solo del matematico, ma del fisico e dell'ingegnere. E una delle cose che io cerco di approfondire in questo corso è il legame che esiste fra la natura analitica dell'equazione di Fisica e la natura grafica. In modo che cominciamo a costruire un'immaginazione della Fisica che sia grafica. Vedete un grafico? Sapete l'equazione che ci sta dietro. Questo è un esponenziale. Questo è un iperbole, un ramo di iperbole. Questo vi aiuta veramente molto. Ma siccome faremo anche esercizi di questo tipo, io vedo il grafico e vi dico bene, adesso dimmi che cosa sta succedendo, oppure vi dico cosa sta succedendo e vi dico bene, adesso fate tutti i grafici che si riferiscono ad esempio al moto dell'oggetto di cui stiamo studiando il comportamento. Quindi geometria analitica, trigomatria, derivate integrali e ovviamente algebra vettoriale. L'avete fatta? Ok. Cos'è un vettore? Cos'è un versore? Cos'è un sistema di riferimento? Uno spazio vettoriale, una base? Uno spazio vettoriale. Cos'è un prodotto scalare? Cos'è un prodotto vettoriale? Basta questo. Poi, chiaramente, facendo gli esercizi, sapete, queste cose saltano fuori e eventualmente, se c'è qualche dubbio, li prendiamo in mano, insomma. Però in linea di principio queste sono le cose che dovete sapere. Il corso consiste in meccanica e termodinamica. Sono due parti separate. Meccanica del Settecento e termodinamica di un secolo dopo. Sono due branche affascinanti della fisica. Di più la termodinamica, perché è una cosa moderna, è una cosa che arriva a definire l'entropia, che è una parola che avete sentito nominare tutti. Per cui la termodinamica è quella che ci racconta che cosa succede. La meccanica è lo studio dei moti degli oggetti. E quindi costituisce un pochino la base per definire alcune leggi che poi valgono sempre e comunque qualsiasi oggetto sia, che sia un pianeta, che sia un elettrone. Ok? Allora. Sapete perché è interessante la Fisica 1 in particolare? Perché è una delle poche discipline scientifiche assiomatizzate. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, assieme alla geometria Euclidea e a pochissime altre discipline, gode dell'organizzazione, della strutturazione data dall'individuazione di pochi assiomi, che sono quegli enunciati, quelle leggi, che non vengono dimostrate, ma su cui la comunità scientifica, in accordo, di cui la comunità scientifica, in accordo, si fida ciecamente. Vuoi perché sono costantemente verificate dall'osservazione sperimentale? Ma per altri motivi. Insomma, la Fisica è costituita da pochi assiomi e tutta una fila lunghissima di teoremi. I teoremi, invece, sono cose che possono essere dimostrate assunta la validità degli assiomi. Non so se qualcuno in matematica vi ha parlato in questi termini. Comunque, fare assiomatica significa organizzare le idee. È un approccio alla scienza che è sempre, sempre, sempre molto fruttifero. Adesso, prima di cominciare, vi racconto che cosa vuol dire fidarsi di una legge scientifica. Sapete, siamo, ve lo racconto, questa non è una cosa che faccio sempre a lezione, ma purtroppo viviamo in un momento in cui la scienza, ovvero sia la capacità della scienza di fare delle previsioni reali, viene messa in discussione. C'è stato il Covid, c'è l'emergenza climatica. E sentite dire un pochino dappertutto eh sì, ma la scienza non dà alcuna certezza, basta aspettare un po' e tutte le leggi vengono sostituite da altre, eccetera, eccetera. La Terra non è piatta e la struttura della molecola di DNA è una doppia elica. Ok? Questo è vero. Non è una certezza che verrà messa in discussione. Bene, dicevo, vi racconto questo aneddoto che quando io l'ho saputo, e non è tanto tempo fa che l'ho saputo, ho detto cavola, lo devo dire ai miei studenti, finalmente è arrivato il momento. Allora c'è Newton che tra il 6 e il 700 formula quelli che costituiscono i soli due assiomi della meccanica. Sono solo due. Uno è la legge di gravitazione universale che vi dice che se ho un pianeta I e un pianeta J, la forza che ciascuno mutuamente esercita sull'altro, ha la forma meno G, mi, mj, r i j al quadrato per il versore u i j, che è quello che collega i due pianeti. G è una costante, la costante di gravitazione universale, mi e mj sono le due masse. voi non sapete ancora cos'è la forza, ma pigliamola per buono. Datemi credito, più avanti nel corso andiamo a vedere di che cosa sto parlando. Riprenderemo questa formula. Questo è somma di FI uguale MI, quella che voi siete abituati a considerare, F uguale MA. La risultante delle forze che agiscono su un oggetto I, istante per istante, è esprimibile come il prodotto della sua massa per la sua accelerazione in quell'istante. Questa è una formula talmente fondamentale che ritorneremo più volte sopra questa formula e io vi mostrerò come tutta la fisica è derivata da là. La fisica, la meccanica intendo. Tutta quanta. Tutta quanta. Una sola formula. Che è stata pensata da Newton che era un genio. Matto, eh. Cioè veramente uno psicopatico. No, no, tu ridi, ma tu sai che il grosso della produzione letteraria di Newton sono libri religiosi non di fisica. E lui era un protestante diciamo radicale il quale sosteneva che i cattolici andavano tutti uccisi. Va bene. Che succede? Nel 1845 un astronomo francese che si chiama Urbain Leverrier a Parigi prende questa formula e questa formula e per motivi per scrutabili studia le orbite dei pianeti e va a controllare che questa formula descriva correttamente le orbite dei pianeti. È una sorta di test delle leggi di Newton. se non che siamo nell'Ottocento non ci sono cannocchiali sufficientemente precisi e potenti per vedere tutti i pianeti. Sono arrivati a scoprire Urano. Quindi Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano. Che fa lui? Sviluppa questa formula e ricava questo è il simbolo di Urano la traiettoria del pianeta Urano in funzione del tempo. Non faccio tutti i conti viene una cosa del tipo Mi e poi c'è un integrale doppio tra 0 e T e tra 0 e T' di U Urano I fratto R Urano I al quadrato per DT DT' Non sapete cosa vuol dire non importa lo scopriremo lo scopriremo fatto sta che lui ha ricavato questa è l'orbita di Urano e si è messo a fare osservazioni ok e ha osservato che l'orbita di Unaron non rispettava quanto previsto dalla legge di Newton in particolare c'erano dei periodi dell'anno in cui Urano sembrava rallentare un po' e dei periodi in cui sembrava andare più veloce ha cominciato a pensare quale poteva essere il motivo e a fare dei conti siamo nel 1845 no computer niente cellulari carta e matita dopo aver fatto i conti ha dedotto che ci doveva essere un altro pianeta in un'orbita più esterna che perturbava l'orbita l'orbita di Urano ha fatto i conti e ha previsto dove sarebbe dovuto essere questo pianeta e che massa aveva per poter cambiare l'orbita di Urano come lui osservava l'alternativa era che Newton avesse torto siccome però non poteva andare a provarlo sperimentalmente ha scritto una lettera al direttore dell'osservatorio di Berlino dove era stato appena fabbricato un cannocchiale nuovo più potente si chiama Johann Gottfried Gall gli scrive e gli dice ascoltami fra un mese in questo giorno qui a mezzanotte punta il telescopio in quella direzione e troverai un pianeta che nessuno ha mai osservato detto fatto lo fa vede il pianeta e scrive a Leverrier la lettera con su scritto il pianeta di cui avete calcolato la posizione esiste nella realtà fantastico questa è la scienza ora di fronte a una simile capacità predittiva è dura pensare che non sia giusta la formula qual è la chiromante o l'astrologo che è in grado di predirvi guarda lì c'è una cosa che nessuno ha mai osservato è un pianeta ti dico anche che massa ha e che giro fa Nettuno è tanto per saperlo quindi il carattere assiomatico di questa formula e di questa perché sono state messe insieme non è soltanto quello di dire mi fido è anche una capacità predittiva che va al di là dell'impossibile è come se qualcuno venisse e gli dicesse guarda ti prevedo il risultato di tutte le partite del campionato e ti dico anche chi segna se poi succede veramente ragazzo mio devi avere un buon sistema per farlo questo è quello che significa assiomatizzazione della fisica esistono delle cose su cui non si prescinde l'incertezza dove arriva l'incertezza arriva nel momento in cui io per esempio per far vedere la traiettoria devo mettere dei dati che ho incompleti oppure che conosco poco oppure sono costretto a usare delle formule leggermente semplificate perché analiticamente non riesco a risolvere le equazioni questi sono tutti i casi che accadono ma cosa succede allora succede che la scienza come vi racconterà il professor Cataruzzo quando farete il laboratorio la scienza non vi dice soltanto il risultato della misura ma lo accompagna anche da una valutazione numerica dell'incertezza che si porta dietro questo risultato ok quindi quando imparerete la la prassi diciamo i protocolli per calcolare l'incertezza da assegnare alla misura che fate o alla previsione che fate allora la meccanica la dividiamo per il momento in due parti la prima cinematica dal verbo greco che significa dalla parola greca che significa movimento la seconda dinamica dalla parola greca che significa forza la cinematica può essere considerata in un qualche modo una branca della matematica perché perché si preoccupa sostanzialmente di sviluppare il formalismo che descrive il moto dei corpi senza preoccuparsi del perché si muovono mentre la fisica ha un'idea più nobile e più alta dell'indagine sulla natura anche capire anche capire causa effetto questo fa questo per questo motivo mentre la cinematica è semplicemente una descrizione una fotografia dei moti degli oggetti e una fotografia delle equazioni che li descrivono che non si preoccupa del perché e del per come quindi è una parte che io trovo piuttosto grigia diciamo piuttosto per fortuna nostra dura una settimana dopo ce ne abbiamo nel nostro il nostro parco equazioni che ci serve per iniziare a fare la fisica vera quindi per una settimana facciamo un pochino i conti della serva partiamo facendo quello che fa sempre la fisica parte dal caso più semplice possibile e via via lo complica questo è un approccio epistemologico caratteristico della fisica se non sapete il significato della parola epistemologico andate a vederlo ok quando io dico una parola che non padroneggiate o mi interrompete e mi chiedete cosa vuol dire oppure andate a vederli che cosa vuol dire e arricchite un pochino il linguaggio l'epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa di indagare su come si fa scienza su come si acquisisce la conoscenza scientifica quindi un approccio epistemologico è come mi organizzo per acquisire la conoscenza fisica bene mi organizzo prendendo le robe semplicissime e poi via via le complico qual è il corpo più semplice di cui analizzare il moto un punto così non devo preoccuparmi se ruota su se stesso tanto è un punto quindi a dimensione nulla non devo preoccuparmi di quanto volume occupa di come è orientato di che forma è un punto in particolare si chiama più tecnicamente punto materiale mass point in inglese imparate io vi dico anche il corrispondente inglese perché più andate avanti più i testi sono solo in inglese quindi fisica ancora ve la cavate bene perché il testo italiano è buono però mass point punto materiale ora non esistono i punti materiali ovviamente ma se le dimensioni interessate dal movimento sono molto grandi rispetto al corpo io posso considerare come punto materiale anche un corpo esteso molto grande per dire se io analizzo il moto del gesso che rotola sul tavolo non posso dire che è un punto materiale fa un moto molto specifico rotola su se stesso ma se io sgancio un gesso dall'astronave il fatto che lui sia un gesso non è che che sia fatto così voglio dire non influenza il suo moto su una scala così grande ok quando io quando anzi non io ma Galileo per esempio studiava il moto dei satelliti di Giove attorno al pianeta madre poteva tranquillamente considerarli come dei punti perché al riguardo al calcolo che lui faceva non c'era importanza nel doverli considerare corpi estesi quindi concetto di punto materiale e concetto di sistema di riferimento se dobbiamo studiare il moto di qualche cosa dobbiamo come minimo specificare quello che abbiamo scritto prima per il pianeta Urano la sua posizione nel tempo quindi per poter esprimere numericamente una posizione io devo avere un sistema di riferimento per cui in un sistema cartesiano del tipo x y z posso dire che un corpo occupa che ne so le coordinate in un certo istante 3 meno 5 e 2 intendendo dire che x uguale a 3 y uguale a meno 5 z uguale a 2 in quell'istante è il punto dove sta l'oggetto che descriverà una sua traiettoria eccetera eccetera questa non è la sola possibile scelta io posso anche parlare di latitudine longitudine e altitudine dipende da dove sono dipende da cosa mi fa più comodo questa è una cosa che mi invento io non è che ci sia in particolare se studio ad esempio un moto circolare di un pianeta della luna attorno alla terra non è neanche senso che io stia là a parlare di altitudine è sempre quella è il raggio dell'orbita per cui userò un sistema di coordinate polari l'angolo θ rispetto a qualche cosa l'angolo φ rispetto a qualcos'altro e poi la terza coordinata che è il raggio è sempre uguale questo mi semplifica i calcoli ci troveremo degli esercizi in cui la scelta oculata di un buon sistema di riferimento rende più semplice i conti sono io che lo scelgo allora questo sistema di riferimento avrà tre versori i versori sono i vettori fondamentali la combinazione lineare dei quali vi dà qualsiasi vettore dello spazio spazio tridimensionale quindi ce ne servono tre mutuamente perpendicolari lunghezza unitaria ux uy e uz in molti libri di testo invece di ux uy uz trovate i j e k chi è che vi ha fatto un po' di algebra vettoriale alla e cosa ha usato nessuno dei due ok c'è sempre così un pochino una metafora della vita sempre con l'idea di voler fare innanzitutto la situazione più semplice per poi complicarla via via il moto più semplice è un moto rettilineo quindi comincio a definire le mie quantità cinematiche prendendo un'asse lungo la quale si muove un corpo una massa puntiforme prendiamo l'asse x ci mettiamo un'origine virtualmente fissiamo anche una scala non mi interessa segnalarlo su quest'asse x possiamo definire quella che si chiama posizione che è il valore della coordinata x nel tempo x di t sarà la mia legge del moto sarà l'equazione che scrive il moto dell'oggetto notate bene che io qui ho scritto x di t ma se fossi stato in tre dimensioni e lo saremo fra poco avrei dovuto scrivere r di t perché in tre dimensioni la posizione è un vettore a tre componenti la posizione di un oggetto nello spazio ha la componente corrispondente alla coordinata x quella alla coordinata y quella alla coordinata z ciascuna delle quali ha la sua equazione mentre in una in una dimensione la posizione è un numero se è un numero positivo sta al di qua dello zero a destra dello zero se è un numero negativo sta a sinistra dello zero bene cosa ci interessa nel moto di una cosa sapere dov'è a un certo istante di tempo per fare questo io devo studiare come cambia la velocità e quindi devo definire la velocità dell'oggetto ora per definire la velocità che è una definizione che potete ben immaginare erano tutte cose che studiavano anche i filosofi i filosofi greci cosa faccio prendo per esempio due punti x1 e x2 due coordinate due posizioni e suppongo che il corpo si muova da x1 e x2 chiamo velocità in questo tratto o velocità media il numero delta x fratto delta t ricordate che delta sta sempre a indicare finale meno iniziale di qualche cosa ok b a 2 1 eccetera è variazione di ogni volta che lo trovate in fisica delta grande lo sostituite con le parole variazione di variazione di coordinata in corrispondenza di una variazione dell'istante temporale detto in modo molto più semplice quanto spazio ho fatto in un certo intervallo di tempo delta t il rapporto fra lo spazio fatto e il tempo che ci ho messo è la velocità media in quel tratto ok perfetto ma a me non basta questa definizione io voglio una definizione che mi dica la velocità in un certo istante che è quello che sono abituato quando leggo il tachimetro in auto la velocità che leggo ce l'ho in quell'istante se poi la velocità sta variando io voglio sapere come varia quindi cosa faccio faccio una cosa che è comunissima in fisica poi la gente si è abituata a farla ma ci ha messo duemila anni a inventarsi di farla e cioè faccio un passaggio al limite per sapere qual è la mia velocità nel punto x1 cosa faccio diminuisco via via il tempo di misura e corrispondentemente diminuirà lo spazio percorso e faccio tendere al limite per delta t che tende a zero il rapporto delta x su delta t questo è un rapporto incrementale avete imparato che cos'è è un limite questo limite non è zero è un numero finito a meno che l'oggetto non sia fermo ovviamente e questo numero si chiama velocità istantanea per arrivare a questa conquista concettuale ci hanno messo duemila anni avrete studiato a scuola il paradosso di zenone tutte quelle cose lì c'è l'idea che in un tempo che tende a zero non sia possibile fare un moto e che quindi conclusione di zenone la velocità non esista è un'idea che sapete come quando si dice per arrivare là devo prima arrivare là in mezzo però prima di arrivare là in mezzo devo arrivare qua e qua e qua e qua e qua e qua quindi devo arrivare in infiniti punti quindi non è possibile che io arrivi mai in fondo questa è una conclusione tratta dalla mancanza di conoscenza del significato dell'operazione di limite e cioè mancanza di conoscenza dell'algebra del calcolo differenziale abbiamo dovuto aspettare 1700 Leibniz Newton per sviluppare la matematica che descrive correttamente questa cosa adesso per voi tutto sommato non credo che sia una roba da capotarsi indietro dalla sorpresa cioè uno dice ok d'accordo capisco insomma mi hanno insegnato i limiti quindi possiamo dire che la velocità istantanea di un corpo in moto rettilineo lungo l'asse x non è altro che la derivata prima della funzione x dt fatta rispetto al tempo quindi possiamo scrivere v uguale dx su dt non è l'unico modo di scrivere il simbolo di derivata non so come vi hanno insegnato a farlo è uno dei modi possibili ok? io leggo questa e capisco che la velocità è la derivata della funzione x fatta rispetto al tempo e vale istante per istante non ho bisogno di prendere un intervallo va l'istante per istante notate bene su questo sicuramente i miei amici e colleghi matematici hanno insistito dx su dt non è il rapporto fra due cose è l'applicazione dell'operatore d su dt alla funzione alla funzione così ci facciamo anche bella figura poi tra di noi quando non ci saranno le telecamere io dirò dx su dt e anche voi lo direte ma dentro sotto nel profondo del nostro essere sappiamo che dx su dt vuol dire applicazione dell'operatore derivata ad una funzione analitica continua di solito x dt ok va bene il fatto che la velocità sia la derivata della della posizione immediatamente ci apre un mondo di comprensione se io rappresento in un grafico il variare della posizione x nel tempo e ad esempio viene fuori una cosa di questo no questo torna indietro se stessa non è possibile così io so che ad esempio in questo istante che chiamiamo t stellato o t star è in questa posizione e la sua velocità è la derivata della funzione in quella posizione ma la derivata di una funzione voi sapete cos'è è l'inclinazione della tangente più la retta è inclinata più alta è la velocità in quel momento ma certo deve essere così guardate cosa vuol dire che questa è più inclinata di questa vuol dire che io muovendomi da qui per passetti piccoli faccio passi molto grandi in x mentre qui no mi muovo molto poco in x quindi vuol dire che qui la velocità è più grande avere la capacità di passare da una rappresentazione analitica ovvero algebrica diciamo a una rappresentazione grafica è vincente fidatevi fidatevi non per questo esame ma per il vostro studio futuro ok chiaramente in questa posizione la tangente è piatta e in quel momento la velocità è nulla scrivo qui x t cosa vuol dire qui? vuol dire che con il passare del tempo partendo da qua immaginate di camminare lungo l'asse t la vostra posizione aumenta rispetto allo zero arrivato in questo istante voi invertite il moto vi fermate e vi invertite il moto vi fermate e invertite il moto quindi c'è un istante in cui la velocità è nulla lancio il gesso in aria si ferma e torna giù sta fermo un istante non si ferma lì ma c'è un istante in cui la sua velocità è zero tant'è vero che al passare poi del tempo la coordinata torna a decrescere ok? questo è quanto questo è quello che c'è da sapere su la velocità a laboratorio vi faranno un buon lavaggio del cervello per impedirvi di sbagliare unità di misura unità di misura della fisica ce ne sono sette di fondamentali di cui noi interessano soltanto tre quest'anno che sono la la massa il tempo e la posizione la posizione la misureremo sempre in metri tempo in secondi e la massa in chilogrammi quindi tutte le altre unità di misura saranno derivate da queste tre fondamentali io non posso ricavare chilogrammi in funzione di secondi e metri la velocità essendo uno spazio fratto un tempo si misurerà in metri al secondo è consentito usare i chilometri all'ora? certo non è un problema ma attenzione che quando poi voi mettete quantità diverse nella stessa formula se non sono omogenee le unità di misura prendete fischi per fiaschi questo è un pericolo che è sempre in agguato quindi se in un compito io vi do una velocità in chilometri all'ora portatela in metri al secondo fidatevi e dopo fate i conti ok? omogeneità delle 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 unità di misura poi ce ne sono delle altre che non possono essere ricavate gli ampere della corrente elettrica ce n'è una che mi ha sempre no non importa intanto le farete le farete più avanti con qualcun altro e negli Stati Uniti usano ancora a piene mani unità di misura che sono proibite dalla comunità scientifica internazionale cioè la libra il gallone il barile per il petrolio il il pollice la iarda e così così dicendo questo significa ve lo dico perché come ingegneri le incontrerete dove le incontrerete in laboratorio quando vi faranno usare un manometro che è un misuratore di pressione che invece di misurarvi la pressione come newton su metro quadro ve le misurerà in libre su pollice al quadrato pound square inch e voi dovrete cioè quei valori di pressione fare le equivalenze che si facevano alle elementari da bambini per portarli in newton su metro quadro se no vi verranno sbagliate le cose c'è anni fa mi pare che sia successo che una sonda che era stata mandata su marte dalla nasa si è sfraccellata sul suolo perché i calcoli della traiettoria dell'accensione dei motori eccetera il gruppo che si occupava dei motori l'aveva fatto col sistema internazionale metric st'altro l'aveva fatto col sistema americano poi sono passati i numeri chiaramente questo ha reso contento il capo della nasa licenziati tutti cioè giustamente insomma ci mancherebbe allora se v è uguale di x su dt voi sapete data la natura analitica delle funzioni che incontreremo sempre io posso tradurla in v dt uguale x è uguale di x non ho portato di là dell'uguale ma colleghi mi garantiscono che se la funzione è analitica queste due espressioni sono equivalenti ovvero sia il differenziale del tempo moltiplicato alla velocità istantanea è uguale al differenziale della posizione ci fidiamo per passare a quantità finite faccio l'operazione inversa della derivata ovvero sia integro entrambi i membri ok scelgo un istante di partenza t0 che è quello da cui io comincio a descrivere il moto a cui corrisponderà una certa posizione x con 0 e all'istante generico t corrisponderà la posizione x ora l'integrale di dx è non saper rispondere vi dà la certezza di non laurearvi così la butto lì poi quando trovate qualche cosa di matematica su cui avete un dubbio ve lo dirò io quali cose non dovranno essere gravate da dubbi ve lo scrivete in un libricino e dedicate uno dei prossimi pomeriggi a studiarlo perché se no sarà sempre un problema sempre per esempio non so se non sapete bene la trigonometria bene allora dedicate un weekend a studiare la trigonometria lo fate una volta nella vita poi va bene l'integrale di dx è x che è calcolato tra x con 0 e x fa x meno x con 0 e qui ho l'integrale di v in dt quindi scrivendo le cose bene ho che il moto del corpo lungo l'asse x lo posso sempre scrivere come x con 0 condizione iniziale più l'integrale tra t 0 e t di v di t in dt ecco qua questa non è una legge della fisica mica l'ho ricavata da chissà quale assioma questa è matematica questa deriva direttamente dal modo con cui ho definito la velocità mi invento una cosa che è x mi invento il tempo faccio il rapporto incrementale lo faccio tendere al limite lo chiamo velocità perché mi risuona come usate a dire voi lo posso connettere facilmente è una cosa di cui ho un'esperienza diretta tutti i giorni la velocità bene da quella definizione con due passaggi io arrivo a questa formula che mi dice una cosa interessante se io conosco come varia la velocità dell'oggetto nel tempo e conosco dov'era all'istante di partenza posso calcolare tutto il suo futuro interessante no questa è una formula che lega spazio tempo e velocità facciamo un passetto ulteriore che sarà indispensabile nel momento in cui introdurremo la legge della dinamica di Newton e cioè passiamo dalla definizione di velocità alla definizione di accelerazione qual è la cosa più importante da sapere sull'accelerazione che si dice con una L sola non si dice accelero si dice accelero perché deriva dalla parola latina acceleris che vuol dire veloce ok niente accelerazione siccome sono vecchio mi irrapio sappilo ti vedo che lui sta per dire accelerazione così come la velocità era il rateo con cui cambia la posizione nel tempo ovvero la rapidità con cui io mi levo da un punto e vado ad un altro accelerazione non è altro che la rapidità nel tempo con cui cambio velocità schiaccio a tavoletta freno di colpo la mia velocità cambia in un tempo molto breve vuol dire che sto accelerando molto attenzione però mentre nel linguaggio ordinario accelerazione è sempre positiva e quando io diminuisco la velocità lo chiamo freno lo chiamo frenare in fisica non c'è frenare c'è accelerazione che sarà positiva o negativa a seconda che la mia velocità stia aumentando o diminuendo ma si chiama sempre accelerazione ok perfetto quindi senza fare tutto il discorso che ho fatto prima cioè delta v su delta t limite per delta t che tende a zero eccetera eccetera so che l'accelerazione in un certo istante t di un corpo in moto lungo l'asse x non è altro che la derivata della sua velocità cioè mi dice in quell'istante quanto rapidamente sta aumentando o diminuendo la sua velocità ma siccome la velocità è la derivata della posizione l'accelerazione risulterà essere la derivata seconda della posizione e se questa formula legava spazio tempo e velocità questa formula lega spazio tempo e accelerazione notate bene e qui cominciano a presentarsi le prime banali difficoltà a ragionare in questi termini che il segno di x vi dice se siete a destra o a sinistra dello zero il segno di v che cosa vi dice se state andando nella direzione delle x positive oppure nella direzione delle x negative se io per esempio sono qua e mi sto muovendo verso destra cioè in modo concordi all'asse delle x la mia velocità è positiva perché è positiva santo cielo perché la velocità è la variazione con cui io cambio è la velocità con cui io cambio la mia posizione ma la mia posizione qui se parto da qui è 0 1 2 3 4 5 sto aumentando il valore della mia coordinata questo vuol dire che la mia velocità è positiva ok il rapporto incrementale è un numero positivo se invece sto andando verso sinistra indipendentemente dal fatto che sia di qua o di là dello zero la mia velocità sarà negativa e fin qua vediamo un attimo l'accelerazione supponiamo di avere questa situazione sto andando verso destra velocità positiva questa è la mia velocità in un certo istante utilizzo come simbologia quella di un vettore più lungo è più vuol dire che sto andando veloce supponiamo che l'istante successivo la velocità sia questa l'istante successivo ancora la velocità sia questa l'accelerazione è positiva o negativa negativa qui sto andando più 5 qui sto andando più 3 qui sto andando più 1 quindi il numero che mi dice la velocità sta diminuendo nel tempo delta v è negativo sponiamo invece che la stessa cosa succeda andando verso sinistra qui spesso perché ho preso questo esempio stupidotto perché spesso qualcuno sbaglia esercizi di questo tipo qui in questo caso l'accelerazione è positiva perché perché se questo è il numero che mi rappresentava la velocità all'istante iniziale meno 5 poi diventa meno 3 poi diventa meno 1 la velocità sta aumentando perché è controintuitivo perché io sto rallentando cioè se io fossi in auto rallenterei addirittura arriverei a fermarmi ciò nonostante io ho un'accelerazione positiva perché ho stabilito la direzione delle x positive ma questo è ovvio insomma il fatto che una quantità vettoriale come la velocità o come l'accelerazione sia positiva o negativa dipende dal sistema di riferimento se io in un certo momento ho il sole sopra la testa e faccio un salto e mi muovo verso di lui ok ho la mia altitudine che aumenta ma se uno in Nuova Zelanda dall'altra parte fa la stessa cosa lui si abbassa mi spiego a seconda di dove mettete il sistema di riferimento quello che è positivo per uno può essere negativo per un altro va bene se ci sono domande mi fermate ora anche in questo caso possiamo sviluppare scusate non ve l'ho chiesto ci vedete bene abbastanza sì ditemelo se non sì a uguale dv su dt quindi posso scrivere a dt uguale dv e fare la stessa cosa che ho fatto prima integrare ad entrambi i membri quindi facciamo partire da zero i fisici per risparmiare energie mentali siccome scegliete voi dove mettere l'origine dei tempi li mettete quando iniziate a descrivere il moto di qualche cosa così potete metterlo zero qui dt integrale tra v zero e v dove v zero è la velocità posseduta dal corpo all'istante zero l'integrale di dv è v calcolato tra v e v zero e quindi ottengo v di t uguale v zero più l'integrale tra zero e t di a di t in dt ecco qui vedete questa è la relazione che mi collega accelerazione velocità e tempo di nuovo se io so qual è la legge con cui varia la velocità cioè la funzione a di t posso ricavare la legge con cui varia la legge per la velocità che poi messa qua dentro mi dà la posizione è quello che ha fatto Leverrier con le formule di Newton e Urano sapete non ha fatto nient'altro che questo e ha calcolato con carta e matita ora per ora dove doveva essere Urano mica male eh cosa che noi non sapremmo fare neanche con computer figurati va bene ora questo lega x v e t questo lega v a e t mettendoli uno dentro l'altro queste relazioni mi danno una terza relazione che mi è utile in cui faccio sparire il tempo in cui lego sostanzialmente le variabili le variabili dinamiche una all'altra e lo faccio in questo modo a uguale d v di t su d t ma io come come mi insegnano i matematici posso sempre pensare che siccome il tempo è legato alla posizione questa io possa esprimerla come una funzione composta v di x di t non c'è niente di fisica dietro è semplicemente una constatazione invece di fissarmi su come varia il tempo mi fisso come varia lo spazio tanto tra di loro ci sarà un legame per quel per un certo moto quindi questa diventa la derivata di una funzione composta giusto? sì che quindi sarà dv su d t no facciamo così dv su d x per d x su d t questa è la derivata dell'argomento e questa è la derivata fuori derivata di una funzione composta è che voi non siete abituati voi siete abituati a vedere f primo di x o cose del genere ma è la stessa cosa è la derivata di una funzione composta ma d x su d t che cos'è? è v quindi ho d v su d x per v ok sto facendo dei trucchetti matematici non ho fatto alcuna supposizione fisica su quello che sta succedendo quindi quello è equivalente ovvero ossia fuori verbale porto di là d x o a d x uguale d v per v ok lo scriviamo nel modo più elegante come integrale tra x 0 a x a di x in dx uguale integrale tra v 0 e v di v di t in d t scusate in d v ok ho integrato entrambi i membri a sinistra mi resta questo perché non so quale potrebbe essere la forma mentre a destra sì che posso risolvere l'integrale perché l'integrale di v in d v è non mugolate parlate dai aiutatemi cavolo non abbiate paura di sbagliare mezzo v a seconda mezzo v al quadrato quindi questo lo posso scrivere come un mezzo v al quadrato meno un mezzo v con 0 al quadrato e questo è il legame vedete fra accelerazione spazio e velocità ho eliminato il tempo quindi prima conquista prima conquista ho scritto le scrivo qua dai a di x no sì dai l'integrale di a di x in d x uguale tra i con 0 e x un mezzo v al quadrato meno un mezzo v con 0 al quadrato ecco qua solo con due definizioni quella di velocità e quella di accelerazione ho costruito tre relazioni che valgono sempre per tutti i tipi di moto rettilineo qual è il prossimo passaggio adesso cominceremo a studiare un pochino dei casi particolari moto rettilineo uniforme moto rettilineo uniformemente accelerato poi andremo a vedere al moto in più dimensioni quindi aggiungeremo complicazione perché la posizione non sarà più uno scalare ma sarà un vettore e quindi diventa tutto più complesso insomma però paradossalmente non perde non perde la possibilità di come si dice interiorizzare quello di cui stiamo parlando cioè renderlo vicino a una nostra comprensione e una nostra esperienza osservativa della realtà attorno a noi questo è il grosso vantaggio della fisica rispetto alla matematica che tutte le volte che io sarò costretto a usare un po' di matematica potrò comunque riferirla a una situazione che voi potete figurarvi fisicamente nella vostra testa l'evoluzione darwiniana non ci ha selezionati per trovare intuitiva la matematica per noi è molto più intuitivo il moto dei corpi perché? perché avere la possibilità di reagire al moto di una tigre che vi viene davanti è un vantaggio evolutivo che garantisce la vostra sopravvivenza se invece dovete mettervi là a fare un attimo di conti su qual è il suo moto e qual è il vostro e qual è il punto dell'istante in cui vi incontrerete può non essere una strategia che vi porta lontano moto rettilineo uniforme il moto più stupido che esista anche in questo caso uno può dirmi ma non esiste il moto rettilineo che si muove di moto rettilineo uniforme ma come sempre come sempre la fisica studia le cose semplici dove non ha bisogno di complicarsi la vita se io quando gioco a curling faccio scivolare sul ghiaccio la pietra va bene è una buona approssimazione di moto rettilineo uniforme è quello so anch'io che c'è un po' di attrito che prima o dopo lo fermerà ma posso fare a meno di calcolare perché l'errore che io commetterò nel formulare delle previsioni di dov'è la pietra dopo tre secondi sarà molto piccolo rispetto alla strada che ha fatto quindi posso permettermelo se però volete rompermi i maroni io sono in grado di calcolarvi l'approssimazione con cui io determinerò la sua posizione è qui che sta la 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 diciamo così non la furbizia ma diciamo così l'intelligenza che sta dietro a questo tipo di modalità di indagine ah dimenticavo una cosa scusate l'unità di misura dell'accelerazione essendo velocità fratto tempo è metri al secondo al secondo quindi metri al secondo al quadrato di quanto varia la velocità in un certo intervallo di tempo dicevo il moto più stupido è il moto rettilineo uniforme che è definito come quel moto che si svolge lungo un solo asse a velocità costante questa è la definizione di moto rettilineo uniforme ora il fatto che la velocità sia costante vi dice che l'accelerazione è zero e per la prima volta di una lunga serie lungo questo corso noi ci troviamo di fronte alla possibilità di interpretare quello che io vi dico a lezione in due modi e lì dipende un pochino dalla cultura dalla preparazione dall'indole anche io posso stabilire questa cosa perché perché so che a è uguale a dv su dt e se v è una costante so che la derivata di una costante è zero giusto? quindi posso arrivarci senza capire niente semplicemente ricordando la matematica che conosco bene oppure visto che ho dei dubbi in matematica penso un attimo se l'accelerazione è una misura di quanto varia la velocità e la velocità non varia mai perché è costante vuol dire che l'accelerazione è zero quindi ci arrivo per via fisica ora in questo caso è banalissimo quindi non non va la pena star là a ragionarci troppo ma ci saranno altri casi in cui un pochino di intuizione fisica e un pochino di matematica riescono a farvi arrivare a una comprensione generale o a risolvere il problema molto più semplicemente che non sapendo bene solo la matematica o avendo capito bene solo la fisica ok quindi a uguale a zero se la velocità è costante la posso tirar fuori dal segno di integrale giusto? tirata fuori dal segno integrale mi ritrovo l'integrale di dt che è t quindi nel caso del moto rettilineo uniforme la legge del moto è questa perché l'integrale di dt fra zero e t è questo ok questa è la legge del moto rettilineo uniforme semplice semplice se all'istante zero io parto da una posizione x con zero la mia posizione varia linearmente con il tempo questa è una relazione lineare raddoppio x raddoppio y perché si chiama relazione lineare semplicemente perché quella è l'equazione di una retta che ha coefficiente angolare v e intercetta x con zero questo lo dovete come un flash apprezzare immediatamente x con zero quanto più è inclinata la retta quanto più veloce è il corpo perché se è inclinata tanto per poco tempo fa tanto spazio se la retta è orizzontale il coefficiente angolare è zero e effettivamente il corpo rimane sempre nella stessa posizione ok questo è un caso in cui ho posizione iniziale positiva velocità positiva accelerazione nulla se invece avessi velocità negativa avrei questo al passare del tempo la coordinata diminuisce quindi la mia velocità è negativa il secondo moto rettilineo importante anzi di gran lunga il più importante a tutti gli effetti pratici è il moto rettilineo uniformemente accelerato prima era moto rettilineo uniforme questo è moto rettilineo uniformemente accelerato qual è la differenza che il moto rettilineo uniforme è quello caratterizzato da velocità costante quello uniformemente accelerato è caratterizzato da accelerazione costante moto rettilineo uniformemente accelerato a uguale costante vuol dire che la variazione di velocità nel tempo è costante ad esempio io ogni secondo aumento la mia velocità di due metri al secondo quindi parto da due metri al secondo dopo un secondo sono a quattro metri al secondo dopo sono a sei metri al secondo e così via è la velocità che aumenta linearmente questa volta se io prendo le tre formule che ho scritto prima ok facendo questa è la definizione di accelerazione e risolvendola se a è costante lo posso tirar fuori dal segno di integrale l'integrale di dv è v quindi ho v meno v con zero uguale a per t scusate quindi v è uguale a v con zero più at che assomiglia a x uguale x con zero più v t del moto rettilineo uniforme solo che invece di essere una relazione lineare fra spazio e tempo adesso è una relazione lineare fra velocità e tempo se questo è il tempo e questa è la velocità e io faccio un grafico di questo tipo all'istante zero ho un certo valore di velocità iniziale e in questo caso vedete ho un'accelerazione positiva man mano che passa il tempo la velocità aumenta e aumenta linearmente quella è la formula ok e il tempo scusate e la posizione lo spazio allora x è uguale riprendiamo la formula che avete una pagina più indietro x con zero più l'integrale di v in dt quindi è x con zero più l'integrale e al posto di v vado a sostituire questa v meno v con zero dt scusate v più a t in dt ok al posto di v ho scritto v con zero più a t sostituito pulito pulito non ho fatto trucchi di nessun tipo quindi x uguale x con zero più questo è l'integrale di una somma che è pari alla somma dei due integrali il primo è l'integrale di v con zero per dt ma v con zero è il valore della velocità all'istante iniziale quindi è un numero una costante lo tiro fuori dal segno dell'integrale mi resta l'integrale di dt che è t quindi qui ho v con zero t ok se ci sono dubbi ho fatto questo questo qui è v con zero t ok v con zero tiro fuori integral di dt e t adesso ci resta questo l'accelerazione è costante il moto è uniformemente accelerato quindi posso tirarla fuori dal segno di integrale mi resta l'integrale di t dt che è un mezzo t al quadrato ci siamo? eccolo qua questa è la legge che mi descrive come varia la posizione nel caso di un moto uniformemente accelerato cavolo mi torna il discorso guardate la velocità aumenta nel tempo in modo lineare la posizione aumenta nel tempo di più che lineare perché se io in un certo intervallo di tempo faccio tot strada ma la mia velocità continua a aumentare nello stesso intervallo di tempo successivo ne farò di più detto in parole povere anche in questo caso siccome voi sapete bene la geometria analitica riconoscete immediatamente che questo non è altro che un ramo di parabola questa è l'equazione di una parabola ok intercetta x con 0 e concavità verso l'alto se l'accelerazione è positiva quindi se io faccio nel tempo la posizione x sarà descritta da un ramo di parabola più mi sposto avanti nel tempo più veloce sto andando vedete questa è questa è la velocità v0 poi man mano che vado avanti la velocità è descritta dalla tangente al grafico che si impenna sempre di più se l'accelerazione invece di essere positiva fosse stata negativa cioè detto in parole poveri invece di accelerare freno e parto con la stessa velocità iniziale dallo stesso punto cosa avrei avuto? avrei avuto stessa velocità iniziale eccola qui però con cavità verso il basso basta anche troppo ti tirò un pelo più in là di quello che prevedevo però vedete insomma come io sono solo partito da due definizioni definizioni velocità e delle definizioni di accelerazione e ho già ricavato un mondo di matematica ma la cosa che io trovo interessante è che questo mondo il mondo della descrizione cinematica ha aspettato duemila anni prima di emergere nella storia della cultura voglio dire il teatro la filosofia l'arte sono nate duemila anni prima di questa roba qua cosa vi dice questa cosa? non che la fisica sia più complessa dell'arte è meno naturale studiare scienze non è naturale è avvenuto una sola storia una sola volta nella storia dell'umanità in Grecia le scienze sono nate solo lì mentre è molto naturale per molti motivi tra cui quelli di pressioni evolutive sviluppare le arti come elegante delle comunità sviluppare la politica sviluppare la filosofia sviluppare il teatro la letteratura e un sacco di altre cose è più naturale questo ahimè non è naturale ma noi lo faremo diventare così grazie